bevo un goccio sono da voi amici fragolini e fragoline oggi voglio fare con voi uno dei dolci preferiti di mia nipote andremo a realizzare un rotolo di pasta biscotto quindi con i rotoli morbidissimi in sostanza un pan di spagna arrotolabile detto in soldoni farcito riempito come non mai con una crema leggerissima alla vaniglia fragole e cioccolato la ricetta è facilissima la ricetta sarà senza glutine la ricetta nel corso del video vi dico come trasformarla anche senza lattosio e sarà una ricetta non mi sto sbilanciando che il tempo effettivo che ci chiederà non sarà più di 30 minuti anzi facciamo 45 se dobbiamo anche pulire tutta la cucina e quello che sporchiamo cominciamo subito con la lista della spesa non perdiamoci in chiacchiere cominciamo a lavorare ma fragoline prima della lista della spesa come ogni volta io vi volevo ricordare semplicemente di supportare video e canale per voi non costa nulla a me dareste un regalo grandissimo per continuare a portare avanti il mio progetto qui su youtube cercare di insegnarvi qualcosa di nuovo ogni volta e perché no investire anche qualcosa sul canale cercando di alzare la pasticcella dei contenuti che riuscirei a portarvi qui in maniera totalmente gratuita siamo tanto così raggiungimento dei 100.000 iscritti grazie lista della spesa allora amici per la pasta biscotto ci serviranno 4 uova medie da 50 grammi l'uno 100 grammi di fecola di patate e un grammo di lievito istantaneo per dolci 20 grammi di cacao amaro 100 grammi di zucchero a velo e un pizzico di sale per la crema interna ci servirà 100 grammi di zucchero a velo 200 grammi circa di formaggio tipo filadelfia 200 millilitri circa di panna fresca un baccello di vaniglia del cioccolato fondente e delle fragole che adesso cuocio la pasta biscotto e le vado a comprare perché le ho finite questa in freezer dunque amici la ricetta è semplicissima intanto per trasformare il prodotto senza lattosio dovete semplicemente scegliere formaggio filadelfia senza lattosio e della panna vegetale o della panna fresca semplicemente senza lattosio la ricetta non è nient'altro che la base di un pan di spagna ovvero all'interno della planetaria noi andiamo a sfruttare la proprietà schiumogena delle uova quindi il fatto che andandole a montare energicamente per tanto tempo quest'incorporino aria gonfino risultino stabili appunto in cottura abbiamo un prodotto bello alto bello morbido e bello spugnoso come ben sapete per chi non lo sa ve lo dico io adesso nel pan di spagna non ci va l'uso di lievito istantaneo appunto perché si sfrutta in toto la capacità delle uova io in questo caso glielo vado a mettere perché per tutelare voi nel senso che se non avete una grande dimestichezza con la planetaria se non avete occhio nel vedere quando è pronta gli mettete una puntina di lievito istantaneo questo vi dà una minima mano per far ripartire il prodotto e comunque nel caso in cui non abbiate fatto un ottimo lavoro in planetaria il vostro prodotto viene comunque cosa facciamo nella planetaria andiamo ad unire le uova e andiamo ad aggiungere più o meno un terzo dello zucchero poca roba non le andiamo ad appesantire cominciamo a montare montiamo 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 queste prendono volume quando vediamo che cominciano a prendere forza abbassiamo chiaramente la velocità se no ci laviamo tutti quanti aggiungiamo il restante zucchero con il pizzichino di sale e aumentiamo la velocità velocità tre quarti diciamo non la massima ma neanche quella minima per almeno e non meno di 10 12 minuti il tempo dipende molto dalla planetaria che avete voi dipende molto dalla grandezza più sarà grande minore saranno la quantità di uova chiaramente in proporzione e minore sarà la forza con cui le prenderà su dovete dargli un minimo un occhio ecco perché c'è il grammo di lievito passati dieci minuti più o meno vediamo che la nostra massa è bella triplicata è bella spumosa e bella gonfia cosa facciamo a parte setacciamo insieme cacao e fecola insieme le setacciamo a parte così leviamo ogni grumo e quando la nostra massa sarà pronta cosa facciamo abbassiamo la velocità la mettiamo a uno e introduciamo in due volte due tre volte le nostre polveri abbassiamo gli diamo due colpi a una velocità un po più alta in modo che li incorpora ripetiamo l'operazione quando le nostre polvere saranno incorporate alla massa spegniamo la mano questo punto diventa un po soggettiva la cosa nel senso che se vi piace una pasta biscotto un po più alta un po più soffici un po più spugnosa e un po più presente nel boccone cosa che sia vecchia la mia nipotina piace prendete una teglia un po più piccola io qui sto utilizzando una 20x30 sfoderato con un foglio di carta forno bagnato strizzato e disposto sulla placca viceversa se volete una pasta biscotto un po più sottile un po più impercettibile che faccia solo da contenitore della vostra preparazione prendete una placca un po più grande anche una 30x40 dovrebbe andare bene disponete la vostra massa su tutta la superficie nella maniera quanto più regolare possibile e l'andiamo ad infornare forno caldo modalità ventilata 200 220 gradi più o meno per ho paura dirvi un tempo ma indicativamente dagli 8 minuti cominciate a guardare 8 10 minuti cominciate a guardare perché chiaramente in base al forno che avete più è potente meno tempo ci vuole controllatela più o meno i tempi sono quelli una volta che sarà cotto passato questi 10 minuti cosa facciamo la tiriamo via dal forno la tiriamo via dalla placca tenendola sulla carta forno e la copriamo con un canovaccio ottenendo l'umidità e facendo sì che quando la andremo ad avvolgere lei ci darà una grandissima manna a farsi avvolgere e non rompersi quando abbiamo fatto questo che cosa facciamo la facciamo raffreddare e prepariamo la crema la crema come la andremo a fare prendiamo il filadelfia gli aggiungiamo la polpa di vaniglia e gli andiamo ad aggiungere metà dello zucchero che vi ho detto quindi metà dei 100 grammi mescoliamo andiamo a sciogliere tutto quanto riprendiamo la panna gli andiamo ad aggiungere la restante metà dello zucchero montiamo ottenendo una panna ben montata ben spumosa e ben stabile ne preleviamo una piccola parte l'andiamo ad aggiungere al filadelfia e andiamo ad ammorbidire lo incorporiamo il resto invece lo andiamo ad incorporare come se fosse un pan di spagna quindi delicatamente dal basso verso l'alto dal basso verso l'alto tagliamo le fragole in piccoli pezzettini e adesso le scelte sta a voi la mia idea è quella di fare una roba molto concentrica quindi centro di fragole crema e rotolo bisogna vedere se mi viene bisogna vedere se ce la faccio viceversa se non volete fare così incorporate le fragole alla vostra massa e mescolate tutto quanto riprendiamo il rotolo gli andiamo a disporre la crema andiamo a disporre le fragole andiamo ad arrotolare e aiutandoci con della pellicola trasparente arrotoliamo e stringiamo bene cerchiamo di fare tipo una caramella in modo che venga ben compatto si stabilizzi e prenda la sua forma fatto questo lo mettiamo in frigo deve riposare per almeno due barra tre ore ma chiaramente più riposa più si stabilizza meglio è quindi non abbiate fretta e dategli il tempo che si merita fatto questo se tutto questo è fatto come si deve io passo il rotolino al me del futuro e vedo se sono riuscito a rendere concentriche le varie cose qualche ora dopo crema di nocciole questo è il nostro risultato guardate la pasta biscotto come morbidissima è veramente una nuvola buonissima io ieri mi sono scorato di dirlo probabilmente prima di andare a farcire il nostro rotolo io ho fatto una bagna questa bagna l'ho fatta con del latte e l'ho fatta con l'estratto di vaniglia che è un rum alla vaniglia gli dà quel profumo profondo di quel leggerissimo nota alcolica che ci sta da dio guardate com'è morbida e impercettibile come avete visto è una ricetta facilissima la cosa che più mi piace di tutto questo oltre al profumo dell'alcol alla fine di tutto quanto è la nota delle fragole gli danno una freschezza e gli danno anche una leggerissima croccantezza perché comunque noi le abbiamo cotte le abbiamo messe praticamente a crudo molto interessante in mezzo a tutto questo hai la spumosità della massa perché è molto spumosa la panna ha fatto veramente il suo hai l'impasto l'impasto tu metti l'impasto in bocca lo schiacci sul palato e l'impasto sparisce completamente ti rimane la bocca di cacao ma non senti l'impasto non ha masticazione abbiamo fatto una pasta biscotto davvero da 10 amici siamo giunti al momento dei saluti perché adesso devo andare a chiudere un altro video ed è un altro capitolo della serie sulle cheesecake e sono non sicuro di più che quella che andrete a vedere la prossima volta non vi dico che la amerete ma vi piacerà sicuramente noi ci vediamo in un prossimo video ci vediamo in un prossimo episodio io vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato spero che il video vi abbia fatto venire fame intrattenuto ho semplicemente messo la voglia di provare a realizzare questa preparazione noi ci vediamo alla prossima io vi ricordo come sempre di supportare video e canale con un like un commento dove mi scrivete qual è la prossima ricetta che vorreste vedere e di iscrivervi al canale contribuendo tutti insieme al raggiungimento dei 100.000 iscritti manca tanto così grazie ciao